Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di TV City in apertura. La cronaca accora un'operazione alto impatto a Torre Annunziata, posti di blocco e perquisizioni dei carabinieri. Torniamo a Torre del Greco, sul piede di guerra, le mamme degli alunni dell'Istituto Gian Pietro Romano. L'ingresso della scuola è impraticabile quando piove. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, dati nuovamente altalenanti. Proseguiamo con la campagna vaccinale al via la terza dose per operatori sanitari e socio-sanitari nell'Asl Napoli 3 Sud, in via prioritaria per gli over 60 o per quelli portatori di patologie. In chiusura parliamo di cultura, riapre la biblioteca comunale Enzo Aprea. Ad annunciarlo ai microfoni di TV City l'assessore alla pubblica istruzione del comune Enrico Pensati. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno effettuato un servizio ad alto impatto in città. Posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni nel rione di edilizia popolare Parco Trento, noto per la tragica morte di Matilde Sorrentino. I carabinieri della compagnia Oplontina sono stati affiancati dai militari del reggimento Campania, dal nucleo Cinofili, dal nucleo carabinieri elicotteristi di Ponte Cagnano e dai vigili del fuoco. Questi ultimi impegnati per la rimozione degli ostacoli fissi. 86 persone identificate e 57 veicoli controllati, 8 di questi sono stati sequestrati. Durante le operazioni finito in manette per detenzione di droga a fili di spaccio, Salvatore Gallo, 21enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 37 grammi di marijuana, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e tre colteri a serramanico. La droga era all'interno di una cantina ma non è stato semplice trovarla. La chiave del nascondiglio era infatti all'interno dell'abitazione del 21enne e non apriva alcuna porta. I militari hanno setacciato tutti i locali del piano terra ad uno ad uno fino a quando quella chiave non ha aperto la serratura della cantina utilizzata dal ragazzo che è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. Il servizio antidroga è continuato con il rinvenimento e sequestro di un sistema di videosorveglianza abusivo. Quattro le micro telecamere sequestrate che erano state posizionate nell'impianto della corrente elettrica esterna che perimetra il palazzo sorvegliato così l'intera area. I carabinieri hanno appurato che la diretta poteva essere vista e registrata da un dispositivo nascosto sul tetto del civico 39 dove l'eventuale vedetta si posizionava. L'invenuta è sequestrata in un'area comune una pistola replica marca Bruni calibro 8 modificata e priva di tappo rosso con 45 proiettili a SAV dello stesso calibro. I carabinieri insieme al personale dell'Agenzia dei Monopoli di Stato hanno controllato quattro sale scommesse a via Vittorio Veneto identificando tutti i presenti. Sanzionata un'attività perché trovata in difetto della prevista documentazione autorizzativa relativa agli apparecchi di intrattenimento, i vi presenti e alla somministrazione di bevande e alimenti. L'ingresso della scuola è impraticabile quando piove. La denuncia arriva dalle mamme degli alunni dell'Istituto Gian Pietro Romano di Torre del Greco. Una problematica che si è riproposta in questi giorni di maltempo. Ascoltiamo la testimonianza diretta di una mamma che si fa portavoce dei disagi vissuti da tutti i genitori. L'ingresso è impedito quando piove perché si forma una pozzanghera talmente grande che i bambini sono costretti purtroppo a passare in questa pozzanghera bagnandosi ovviamente i piedi, calzini, scarpe e noi siamo costretti ad andare a casa e a portare il cambio. Però non tutte le mamme sono così fortunate da poter andare a casa e portare questo cambio. c'è chi lavora e chi non può tornare a casa. I bambini rimangono 4-5 ore con i piedi bagnati rischiando poi che il giorno dopo si svegnano con raffreddore, tosse e in questo tempo ancora di pandemia sappiamo a che cosa andiamo incontro. Tamponi, restare a casa forzatamente perché poi noi abbiamo firmato un patto di corresponsabilità con la scuola in cui ci impegniamo a non mandare i bambini a scuola nel momento in cui c'è anche un semplice raffreddore. Non manca la richiesta delle mamme all'amministrazione comunale. La nostra richiesta è molto semplice, chiediamo al comune che intervenga il più presto possibile perché ci apprestiamo ad andare verso l'inverno e quindi le piogge saranno all'ordine del giorno. Altaleranti i dati covid dei comuni lesuviani. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, sono 4 i nuovi casi di positività certificati. Si è registrata invece una sola guarigione. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati con 92 attualmente positivi, di cui 12 ospedalizzati. Nel comune dito rannunziata invece, nelle ultime 48 ore si sono registrati due nuovi casi di contagio a fronte di 160 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta allo 0,62%. Al contempo si registrano 4 guarigioni. Sono 31 dunque i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 50.329. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.901, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.428. Alvia la terza dose di vaccino per operatori sanitari e sociosanitari. Su disposizione dell'unità di crisi regionale per l'emergenza covid-19 parte la somministrazione della terza dose del vaccino anche per gli operatori sanitari, prioritariamente per gli ultra-sessantenni e opportatori di patologie. Come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario e dopo almeno sei mesi dalla seconda dose, gli addetti possono recarsi presso tutti i punti vaccinali di popolazione ed ospedalieri dell'ASNapoli 3 Sud, più vicini al luogo di lavoro per l'effettuazione della terza dose. Bisogna recarsi al punto vaccinale con tutta la documentazione inerente, la prima e la seconda dose, con documento di riconoscimento, tessera sanitaria e Green Pass. Tutte le informazioni sono visibili sull'home page del sito www.aslanapoli3sud.it. L'azienda sanitaria sta compiendo un ulteriore sforzo organizzativo per l'inoculazione delle terze dosi ai soggetti immunocompromessi, agli ultra-ottantenni, agli ospiti delle RSA, delle case di riposo e case albergo per anziani. Negli studi di TV City, l'assessore alla pubblica istruzione del comune editore del Greco Enrico Pensati, tante segnalazioni giungono in redazione sulla chiusura della biblioteca di Villa Macrina. Come stanno i fatti? Innanzitutto diciamo che sulla chiusura temporanea della biblioteca di Villa Macrina, perché tutti dovrebbero ricordare che la biblioteca, fino al giorno prima dell'obbligo di chiusura dovuta all'emergenza pandemica, è stata aperta, nonostante la carenza di personale, è stata aperta sia in orario mattutino che in orario pomeridiano. Premesso ciò, dobbiamo distinguere quella che è la polemica politica, legittima perché mi rendo conto dei ruoli. Chi vi parla però quotidianamente interloquisce con i ragazzi che frequentano la biblioteca. La biblioteca è attualmente chiusa per un motivo banalissimo, che è la rottura di una condotta idrica. Da qui a, penso, pochissimi giorni i lavori verranno avviati, quindi tempo, due settimane, e la biblioteca di Villa Macrina, la biblioteca Aprea, verrà riaperta. Come del resto lo è sempre stata. Ripeto, appena terminata adesso la rassegna, si avvieranno i lavori all'interno della struttura, verrà riaperta anche la biblioteca. Quindi tempi brevi, quindi una buona notizia che arriva per gli abituali frequentatori della biblioteca e gli appassionati di lettura in città. Non solo, ma la biblioteca Aprea diventerà un punto, diciamo, qualificante per questa amministrazione, perché questa città ha avuto, diciamo, riconosciuto dal Ministero per i beni culturali un progetto. Noi abbiamo una qualifica che si chiama Città che legge, quindi la biblioteca Enzo Aprea sarà il fulcro di questo nuovo progetto. Nonostante la tavica carenza di personale, ciò nonostante, grazie allo sforzo dei dipendenti, dei ragazzi che quotidianamente vivono la struttura di Villa Macrina, la biblioteca di Villa Macrina, questa potrà nuovamente, diciamo, ripartire. Ripartire chiaramente anche in forza di un nuovo progetto che da qui a breve presenteremo. Grazie a tutti.